Venga qui con noi, Giuseppe Zeno! Benvenuto! Grazie, grazie a voi, bentrovati! Ciao Giuseppe! Ciao, ciao! Come va? Io sempre meglio, poi guarda il panorama, ho davanti agli occhi, Filippo Neviani, Giuseppe Zeno, donne di A1, sono sicura che siete tutte felici! Ecco, e dopo questa? Allora io posso immaginare che avresti voluto avere Francesca davanti, ma invece ti tocca avere il sottoscritto, cioè Francesca c'è! È comunque qui con noi, è comunque qui con noi, è comunque qui con noi, sì! Storicamente lì a portare avanti un programma, però lo guardavo dietro le quinte, un attimo prima di entrare, se la cava benissimo, guarda che qui io starei un attimo attento, no, no, io... Non mi permetterei mai, no! Non mi permetterei mai! Vai Filippo! Grazie! Basta, basta, alimentate il mio ego, è pericoloso! Allora, stasera, oh, c'è l'ultima puntata di Mina Settembre, qui sono tutti in subbuglio, anche nei corridoi della Rai, la stessa Francesca, qua non capiscono più niente, grande fiction di Rai 1, 7 milioni di spettatori, sempre costanti, insomma, è una bella soddisfazione, questa qua per un attore. Sì, sì, una bella soddisfazione, perché chiaramente quando hai dall'altra parte il riscontro del pubblico, da sicuramente forza e valore a quello che tu hai fatto, ma soprattutto al modo in cui l'hai fatto, in maniera totalmente, credo, onesta, trasparente, no? Onesta, trasparente, soprattutto in questo momento, peraltro, in un momento storico come questo, secondo me il pubblico lo percepisce, una serie rassicurante, dove tutti, davvero tutti, voi avete avuto anche modo di incontrare altri miei colleghi qui, hanno lavorato in maniera egregia, e il pubblico che è da casa, voglio dire, ne sa, credo, forse anche qualcosa più di noi, perché poi è il primo referente di quello che facciamo, ha apprezzato, e noi siamo sicuramente stimolati a fare ancora di me, ognuno nel proprio lavoro, in quello che adesso sta facendo, ma anche, credo che non sia una sorpresa, l'ho letto già, la dove si dovesse fare la seconda serie, non so quando inizierà, saremo motivati a fare ancora meglio. È un'anticipazione, Franci, questa. No, no, è già uscita, credo... Ah, ok, allora sono io che sono mal informato. Voglio far vedere agli amici a casa i tuoi inizi, posso? Certo. La voce del sangue? Vai. Inizi, inizi, inizi. Inizi, inizi, inizi. Inizi, inizi, inizi. Carabinire scelto Cambria Massimo, comandi, signor Capitano. Comodo, comodo. Grazie, signore. Come va? Bene, signore. Pensai cosa rischia, vero? Mi pagano per questo, signore, e non ho famiglia. Ma dove è rimpescata sta roba? Eh, ma qui la... Eh, ma la Rai, ma sì, ma stai parlando della Rai qua, non c'è limite a nulla. tra l'altro qua non si vede ma poi ti ammazzano credo che poi tra l'altro qui era protagonista in questa serie televisiva Giorgio Pasotti con Franco Nero io li ho conosciuti tutti e due Giorgio e Franco Nero in diverse situazioni due uomo fortunati hai capito? senti come è il rapporto con il successo come lo gestisci tu? ma il successo in realtà è qualcosa con la quale io cerco di non confrontarmi mai cerco di evitarlo nel senso che se per successo intendi il riscontro che il pubblico dà a quello che tu fai nel lavoro è un qualcosa che dà un grandissimo stimolo lo dicevo prima è chiaro che ti dà un tipo di esposizione che non ti permette di sbagliare devi anche cominciare a fare a fare delle scelte a cercare di trovare sempre stimoli nuovi a non sederti mai su quello che hai già fatto mai quella è una cosa perché tu fai questo lavoro tu me lo insegni ma credo anche tu insomma a proposito di scelte io so che tu sei capitano di lungo corso sì cos'è che ti ha spinto a diventare attore? qual è la molla? il meccanismo? ma guarda in realtà io avevo già deciso di fare l'attore avevo già deciso di fare l'attore però siccome mio padre aveva un peschereccio pescavo lavorato anche con lui qualche anno per frequentare un corso accademico che fosse diciamo indirizzata alla formazione dell'arte drammatica mi serviva comunque un diploma di scuola media superiore quindi per me qualunque scuola andava bene purché facevo quei cinque anni e poi con quella attestata alla mano potevo frequentare una scuola di arte drammatica però è stata decisamente è stata una scuola molto bella decisamente formativa ti da mi ha dato tantissimo l'ho frequentata a Pizzo Calabro dove sono cresciuto a Pippo Marina pur essendo napoletano sono cresciuto lì gli ho tantissimi amici sono tuttora in contatto con gli amici del posto e poi tra l'altro lì un insegnante mio del Nautico che saluto tra l'altro Franco Chiarelli insieme ad altri amici sono i componenti di una compagnia di teatro popolare che io seguivo da quando avevo 11-12 anni loro fanno durante l'estate tutte le spettacoli di piazza e io ero sempre lì sotto al palco con i miei pantaloncini estivi la magliettina da scugnizzo abbronzato a guardare i loro spettacoli e vedevo che la gente si divertiva tantissimo che facendo quel lavoro c'era la possibilità di far sorridere le persone o comunque di regalare gioia certo di regalare emozioni poi la decisione è avvenuta quando sempre intorno ai 12-13 anni ho capito che questo lavoro mi dava la possibilità di poter esternare tutto quello che era il mio mondo interiore che non riuscivo a tu hai citato il teatro prima e noi abbiamo un documento delle tue interpretazioni teatrali i soliti gnoti guarda un po' ti presento il mio cognato che ha perso il lavoro e disoccupato grande mario di guerra ma non stai lì vieni metti da sede vieni non stai ferma lì fai la sedere no signora fai il cavaliere accomodi come mai qui? eh caro mio se sapessi che è successo grazie non ti dovrai più vergognare di me pardon? mi sono licenziata come te sei licenziata? come licenziata? sì mi sono licenziata a fianco a te c'è anche un altro c'è un altro grande attore che salutiamo Vinicio Marchioni che è anche regista regista dello spettacolo fantastico è veramente un grande attore anche lui straordinario no ma poi è un collega una persona straordinaria ancora prima che è un bravissimo collega devo dire non è scontato non è scontato questa roba qua non è scontato quando è che la ruota ha girato per te? soprattutto te ne sei accorto quando? guarda io me ne sono accorto in realtà ancora no perché sai siamo degli eterni insoddisfatti sicuramente però ci sarà stato un momento in cui però c'è stato forse c'è stato un momento quando ho avuto la possibilità di non poter di poter non lavorare più in un ristorante dove lavoravo a Trastevere forse ah beh certo piano piano sai cominciavo sai io facevo anche le tourney poi rientravo lavoravo c'era il proprietario mi dava una grandissima disponibilità in questo sei stato in tourney in Sud America anch'io ci sono stato sì io in realtà facevo avanti e indietro facevo degli spettacoli grazie all'accademia che abbiamo fatto delle tourney in Sud America tra San Paolo e il Brasile e l'Argentina Buenos Aires in Uruguay abbiamo fatto degli spettacoli poi siccome mi erano innamorato un po' di quel mondo il tango di quelle atmosfere avevo deciso insomma e devo dire che lì c'è una grandissima scuola di teatro a livello formativo e sono straordinariamente bravi quindi ho fatto un po' avanti e indietro poi è iniziata un po' la crisi nel 2000 sai il 2001 la rivolta insomma che c'è stata e dal 2000 sono rimasto qua però poi ho cominciato a lavorare anche in televisione a fare le prime cose al cinema le prime fiction e mi ricordo questa cosa simpaticissima perché poi lavorando a Trastevere proprio a Piazza della Scala era una zona di grande passaggio che passava a chiunque per cui io magari la mattina mi trovavo lì sul set con un ruolo da coprotagonista insomma contando con la persona che passava Giuseppe vuoi un caffè Giuseppe posso darti una focaccia e poi la sera magari questa persona si trovava a passare lì mi vedeva davanti alla porta che faceva accomodare le persone al ristorante un po' la cosa un po' la cosa mi imbarazzava all'inizio però ho detto ma però è stato anche lì anche quello che bella Giuseppe così vero così comune tante persone bravo bravo quindi diciamo a un certo punto poi ho smesso di fare quel lavoro perché il lavoro dell'attore non me lo permetteva più ma non per io andrei ancora lì forse se mi dicessero vieni una sera qui e rifai quello che hai fatto io mi divertivo con il contrario gente ma infatti che parlavano tante lingue diverse acquisiti suoni anche da tutta età ma ci andrei però in questo momento tra l'altro dove c'è difficoltà ad avere un rapporto con la gente perché abbiamo c'è questa lontananza per esempio tu hai riscoperto te stesso sotto altre forme vabbè tu stai lavorando molto grazie a Dio e questo è sicuramente importante però hai avuto un momento in cui hai pensato anche di che ne so sviluppare qualcosa di più di te stesso che ne so c'è qualcuno che si è scoperto pittore qualcuno che ha non so ho sviluppato un hobby ma guarda io in realtà non ho capito perché non si è sentito un po' il contadino sì no io ho fatto anche il contadino e purtroppo la mia mano ha subito un piccolo trauma però voglio dire in quel momento lì soprattutto nel primo lockdown dove abbiamo avuto veramente lampante la lontananza nei confronti del pubblico noi che viviamo grazie all'applauso in teatro insomma col pubblico davanti al palco nei concerti sai non per tutti è stato un momento semplice soprattutto ci sono amici artisti che non hanno più avuto idee che hanno avuto un blocco completo c'è chi ha io lo ricordo benissimo ero in tournée con lo spettacolo appunto con Vinicio avremmo dovuto fare ancora 20 date anche quest'anno avevamo chiuso circa 80 date per cui tanti colleghi a casa insomma e davamo a Dancona quando c'è stato annunciato da parte della produzione che si era in attesa del decreto governativo che si fosse insomma avrebbe sì quel famoso decreto sembrava quasi impossibile che tutto tutto quello si potesse realmente fermare proprio nel luogo in cui pulsa la vita quella del teatro dove l'artista crea e il pubblico è lì in apertura che riceve e c'è un continuo scambio c'è energia sembrava impossibile davvero che tutto quello potesse in qualche modo fermarsi però poi quando è successo sai all'inizio non si sapeva ancora si parlava di 2-3 settimane di blocco poi di una possibile ripresa dopo un mese per cui la speranza ancora c'era e anche chi magari aveva perso il lavoro si ritrovava insomma senza una scrittura teatrale nutriva la speranza comunque di poter riprendere da lì a un mese a un mese e mezzo però il protrarsi di tutto ciò da febbraio dell'anno scorso ad oggi ha creato dei veri disagi però tornando alla tua domanda non voglio andare su questo argomento che meriterebbe insomma un altro dei tempi decisamente lunghi e tornando alla tua domanda io ho scoperto la mia spiritualità con la quale ero già tantissimo in contatto prima il contatto con la natura con la terra quella vera io amo fare giardinaggio un bel giardino un altro punto in comune ho un bel giardino e condivido con mia moglie la passione della terra abbiamo abbiamo un terreno in Sicilia dove sogniamo di poter costruire mettere a posto un rudere che esiste tuttora e trascorrere tantissimo tempo lì e allora te lo auguro con tutto il cuore davvero perché grazie sono passioni che poi rimangono tutta la vita e poi fanno unione con la famiglia insomma senti c'è una persona cioè io leggo che Mina ha scoperto che la famosa amante del padre quella della foto era Irene non mi se lo dico io questo lo dico io ecco lo vuol dire lo sapevo che lo volevi dire te vai stai facendo confusione probabilmente e invece stiamo parlando di una cosa importante che aspetta un sacco di persone allora Giuseppe adesso qui non si scherza più parliamoci chiaro diciamo Domenico dove sei andato domenica scorsa che a un certo punto sei sparito allora va bene che c'è questa povera donna che ti risolve i problemi a un certo punto insomma che fa credere che state insieme poi però se ti scappi fai come tutti quanti oggi è San Valentino tu te la sei data parla chiaro succede o non succede qualcosa stasera guarda stasera chiaramente parliamo dell'epilogo di tutto per cui di cose stasera ne accadranno tantissime chi fugge chiaramente ritorna fugge per tornare non sempre fugge per andar via ma per cui sicuramente vincerà vincerà l'amore alcuni rancori saranno smussati e inevitabilmente purtroppo qualcuno ci resterà male qualcuno se steggerà ma qualcuno senti Cristiano Filangeri cosa ha da dirti senti un po' non ce l'abbiamo? arriva sta arrivando ebbene sì abbiamo scoperto chi era la donna della fotografia io avrei voluto dirvelo il giorno in cui mi avete invitato in trasmissione però poi mi pareva brutto perché ci stava Mina là davanti vicino a me e comunque ho due cose da dire ad Irene la mia cara amica Irene intanto spero che tu abbia imparato che non si compra mai e dico mai la stessa agenda della tua migliore amica seconda cosa cara avvocatessa non si porta in giro nell'agenda la fotografia scottante che ritrae la donna che stiamo cercando dalla prima puntata vabbè comunque come finisce tra Mina e Irene se la loro amicizia si riprende o che succede io non vi dico niente no se la deve vedere Irene stasera mancano poche ore e lo vedrete insieme a lei io invece ho deciso di dirvi un'altra cosa vi dirò chi sceglierà Mina tra Claudio e Domenico la scelta di Mina andrà no ho cambiato idea non vi dico manco questo e tanto mancano poche ore stasera 21.30 sul Rai 1 l'ultima puntata di Mina Settembre e buon San Valentino a tutti vi diamo qualche anticipazione cazzo quanto ghiacchia la filangeria eh sì guardatevi un attimo eccoci qua vieni vieni guarda che luce mi sono innamorato di questo posto appena ci ho messo il piede ma come l'hai trovato? è di una mia collega naturalmente mi fa un prezzo d'amico però vicino al lavoro che ne pensi? molto bello qui potresti aiutarmi ad arredarlo? vieni vieni ti faccio vedere non ti aspettare la vista sul marco eh ma almeno il posto è più tranquillo della città guardate com'è bello lontano dal caos da quella gente è questo quello che cerchi? un po' di pace? tu no non ti piacerebbe avere un posto tutto tuo? tutto nostro Domenico senti per me questo non è proprio il momento per fare pari aspetta aspetta io lo so che è tutto un casino adesso ma l'hai detto prima che sta cambiando un sacco di cose nella tua vita perché non cambiare veramente allora? io e te ci siamo provati stiamo bene insieme e non pago la faccia almeno dimmi che ci pensi Giuseppe Zeno grazie di essere stato il nostro ospite ricordiamo questa sera ultima puntata di Mila Settembre Franci vuoi salutare? grazie grazie a te e spero a presto insomma dai va bene in bocca al lupo a tutti ciao ciao grazie Giuseppe grazie grazie